Enrico Mentana nonno, la prima, dolcissima foto. Il direttore del Tg di La Sette ha pubblicato l'immagine su Instagram. Era il 9 maggio scorso quando Enrico Mentana annunciava la nascita del suo primo nipotino con un post Instagram. Qualcosa di importante mi ha reso felice raccontò il direttore del Tg La Sette a corredo di una foto che mostrava un angolo della clinica Mangiagalli di Milano dove era avvenuto il parto, della figlia Alice, secondogenita nata dalla relazione con la ex compagna Letizia Lorenzini del Milani. E oggi, a distanza di quattro mesi dal discreto annuncio, ecco arrivare la prima foto che mostra il visetto del bimbo in braccio al nonno che, invece, è ritratto di spalle. Staffetta. È la didascalia che accompagna il tenero scatto. Espressione che sembra fare riferimento alla nuova generazione e che in molti hanno collegato al gergo sportivo delle sue arcinote maratone. Le maratone per le presidenziali del 2028 le farà il piccolino. Ha chiesto ironico uno dei tanti follower che stanno augurando il meglio al bimbo e al nonno. L'indiscrezione sull'arrivo di un nipotino risale allo scorso gennaio quando il settimanale che ha pubblicato le foto di Enrico Mentana in un locale romano per festeggiare i suoi 69 anni con la compagna Francesca Fagnani e i suoi figli, Stefano, 37 anni, nato dalla relazione con Fulvia Di Giulio, Alice, 32 anni, nata dalla relazione con Letizia Lorenzini del Milani, Giulio 17 e Vittoria 16 anni nati dal matrimonio con Michela Rocco di Torre Padua, da cui si è separato nel 2013. Proprio allora gli è stata comunicata la gravidanza di Alice. Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.